Brutta, sporca, insicura e buia. Così è Pescara per Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che mappando le criticità del capoluogo adriatico è tornato a denunciare i problemi che affliggano Pescara, una città che chiede aiuto. Abbiamo presentato un dossier molto dettagliato facendo una mappatura completa di tutte le criticità della città di Pescara. È venuto fuori un quadro abbastanza desolante e devastante. Allora una città sporca, una città insicura, una città con manto stradale completamente dissestato, una città con sacche di ombra e buia. Abbiamo rilevato e mappato decine e decine di strade dove veramente il manto stradale è dissestato. Abbiamo delle vere e proprie buche e voragini. L'amministrazione comunale arriva fuori tempo massimo. Dopo quattro anni non si giustifica l'annuncite. Si dice che verranno fatti alcuni interventi ma solo sul 10% di quello che riteniamo noi debba essere fatto. Non solo. A questo noi colleghiamo la sporcizia diffusa. Abbiamo parchi dove si gettano carte dappertutto. Ci sono anche sacche maleodoranti. Non è sicuramente un biglietto da visita bello per una città. Ma agganciamo a questo l'insicurezza. Voi vedete che abbiamo mappato alcune strade. Da Corso Vittorio Emanuele o il tratto che va da via Silvio Pellico a via Diamicis abbiamo una situazione veramente pericolosissima. Area di risulta. I parchi centrali, piazza Santa Caterina. Udite udite. I commercianti ci dicono che in alcune ore della giornata devono avere la porta chiusa a chiave. Aprire solamente ai clienti che riconoscono. Ditemi voi se va bene così. Quando ci sono delinquenti, criminali, balordi, spaccio di droga, persone che rendono invivibile e insicura la città, mettono a serio rischio l'incolumità dei nostri cittadini, l'incolumità dei nostri commercianti. Così non si può andare più avanti. E se sul fronte viabilità l'amministrazione comunale ha tardivamente individuato delle soluzioni con un attacco di annuncite, continua il consigliere Pettinari, una possibile soluzione al problema della sicurezza sarebbe l'aumento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine che fungerebbero da deterrente alla criminalità. Di fronte a questo quadro devastante e desolante, io faccio anche mie le parole del comandante Grippo che è un esperto di sicurezza e che ci dice che bisogna mettere più uomini su strada, uomini in borghese della polizia collocale, uomini che vadano a garantire la vera sicurezza della viabilità ma la sicurezza anche ai nostri cittadini. Di fronte a questo quadro l'amministrazione comunale è da bocciare sotto tutti gli aspetti. L'ha fatto male, è un'amministrazione comunale che deve correre subito ai ripari con azioni forti di sicurezza, azioni di decoro urbano, azioni di pulizia davvero della nostra città per riconsegnare ai cittadini la città che è meno. Così si sta danneggiando solamente l'economia e il bigliettino da visita che ne viene fuori e un bigliettino da visita che parla di bruttezza.